Buongiorno, sta com'è giusto? Piacere Roberto, benvenuto a Paragradutismo e Truve Arezzo Pronto per questo lancio? Ci si va a divertire? Allora si fa un bel 4000, 56 capriole per stabilizzarci e poi jeppa Allora ci si vede su raga, grandissimi Ok, Paolo si parte Grandissimi Vai, 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 vai Vai, 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 vai Grazie 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 Give me 5 Grandissimi Ciao